Musica Post partita di Mondial contro Academy Certosa, vittoria 2 a 0 per i padroni di casa, siamo qui con Mr. Ciffolilli a cui chiedo di darci un giudizio complessivo sulla partita dei suoi ragazzi. Buonasera, guardi abbiamo gestato bene la partita, certo al primo tempo siamo rimasti sul 0 a 0 però poi abbiamo messo Valerio Perna in attacco, un grande giocatore, molta stima, ha fatto anche il secondo coro anche Devex Flavio, grandissimo giocatore, abbiamo messo clinta, passione e gambe, come sempre. Primo tempo molto, possiamo dire, anche abbastanza noioso, è stato proprio l'ingresso di Perna a darvi un pochino la frustata anche perché mi è sembrato che dal momento in cui Perna è entrato in campo è come se il Certosa avesse capito che davanti adesso c'era più propositività. Sì, anche per quello abbiamo messo questo ragazzo che è fondamentale perché ha un gioco impressionante anche con una forte velocità sul movimento palla, grandissimo giocatore, certo giustamente diciamo un unico problema, certe volte non passa la palla, vuole fare il maratona della situazione però è un bravissimo ragazzo, mette talento, passione, anche Devex Flavio, Marenghi, tutta la difesa sono ottimi giocatori, certo speriamo arrivare almeno terzo in classifica perché il campionato ormai sarà giocato Univo-Mezia e la Roma Team, questo. Grazie mille, Ministro, buonasera. Grazie e buonasera anche a lei.